C'è parecchia incertezza perché ovviamente già il fatto di non avere, ecco perché io insisto di creare proprio in queste occasioni qui delle cabine di regia, proprio perché intorno a questi tavoli qua devono essere sedere tutti quanti gli attori principali dell'economia, che va dalla politica, che va dai vari assessorati ai trasporti, al turismo e tanti altri, compresi anche noi che facciamo imprenditoria, nelle associazioni di categoria, perché sicuramente non è che la macchina economica non è un'auto che gira la chiave e riparte, magari fosse così, anche perché va bene, il periodo del coronavirus passerà e ci siamo. E il dopo? E il dopo come verrà gestito? E il dopo che tipologia di clientela avremo? Quanti turisti arriveranno? Le nostre imprese riescono a stare in piedi anche con un'eventuale penuria di clientela? Queste sono le domande che affliggono l'imprenditore.